What's up a tutti ciurma qui da Giocherina e da Rodrigo Siamo qui come al solito semplicemente per darvi l'annuncio che questa sera alle ore 21 come ogni domenica saremo in live ragazzi Alle ore 21 Vi aspettiamo in tanti mi raccomando perché Sintonizzatevi tutti perché come Ogni domenica ormai da due domeniche chiameremo qualcuno di voi Attraverso il mio profilo pubblico di facebook Mary Chopper e l'applicazione di messenger Quindi se qualcuno di voi non lo sapesse ancora adesso lo sa quindi ragazzi vi aspettiamo questa sera perché Fate i buoni e noi siamo sempre fibrillanti per queste live Esatto quindi nient'altro da aggiungere ragazzi grazie a tutti ci vediamo ci sentiamo stasera un bacione E guattaglia a tutti ciurma da Giocherina e da Rodrigo Ciao ragazzi Ciao